Buongiorno a tutti, in frutteria c'era un fruttarolo, si era alzata alle 5 di mattina per mettere a posto tutto, tutte le cose, tutte le frutte, le verdure, le ortaggi, meloni, i cogommeri, e di tutto e di più. A certo punto erano alle 9 di mattina, ancora non si avvicinava nessuno, erano nervoso, dicevano come non viene nessuno. A certo punto arrivano due persone, stranieri, uno americano, gli fa cosa essere questi? Dicevano quali questi? Questi sono le zucchine. Noi in America avere certe zucchine così grandi come braccio, così lungo. Vabbè, c'è questi, cosa essere questi? C'è questi sono melanzane. Noi in America avere melanzane grosse come gamba, ecco come gamba. Pazza, poi si gira, vede i cogommeri, i anguri. E questi, cosa essere? Quali questi? I piselli freschi delle stagioni.